Luca Comics and Games è una manifestazione per tutti, perché non conta l'età ma la passione e la sensibilità che spinge le persone ad apprezzare e ammirare l'arte della narrazione e della creatività visiva. Ma l'edizione 2021, la prima a essere organizzata durante la pandemia, è dedicata soprattutto ai giovani ed è loro che si è rivolta il Ministro per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone, arrivata a Luca nel giorno dell'inaugurazione del Festival. È una manifestazione tutta dedicata a loro e ha un grande potenziale, rappresenta non solo per la città ma per tutto il Paese uno spazio dedicato ai giovani, che è quello che sostanzialmente ci chiedono e chiedono in particolare a me come Ministro un moltiplicarsi di manifestazioni come queste, spazi tutti dedicati a loro e alle loro passioni nel Paese. Un bel segnale di ripartenza, chiaro, ancora con delle restrizioni, con delle limitazioni bisogna continuare a stare attenti, però penso che sia davvero un bel segnale di ripartenza, perché si ha la possibilità di vederla fisicamente, non come l'anno scorso, che ancora era da remoto, quindi con un impatto completamente differente. Però questa è una buona occasione anche perché quest'anno siamo riusciti a connetterla con un'altra delle deleghe che occupa, quella degli anniversari nazionali. Abbiamo un padiglione dedicato proprio ai cento anni del milite gnoto e all'interno, insieme proprio ai ragazzi che ci hanno offerto delle grafiche, che proviamo ad approcciare, a raccontare quella che è una storia di attualità dal punto di vista della ripartenza, della rinascita del Paese ad altri ragazzi. Quello di Lucca è il Festival dei Fumetti, certo, ma anche dei giochi, ed è proprio collegandosi a questo tema che il Ministro Fabiana Dadone ha rilanciato la sua proposta, portare i videogiochi a scuola e utilizzare la gamification come strumento educativo e didattico. Dal mio punto di vista è importante riuscire ad insegnare anche in maniera differente, se riusciamo a far apprendere anche delle competenze differenti, penso alle soft skills, sappiamo che nel mondo del lavoro le ricercano, poi la scuola poco ancora le insegna, la gamification su questo può aiutare moltissimo, ma può aiutare ad apprendere anche banalmente la matematica, la scienza, è un modo diverso per imparare, chiaramente non totalizzare tutto sulla gamification, ma può essere un modo per avvicinarci ai ragazzi. Grazie a tutti.